Si è appena conclusa la requisitoria del PM Rossi sul caso Coingas, è durata più di due ore e il PM ha richiesto il rinvio a giudizio per 11, per altri due ovviamente no perché hanno chiesto il rito abbreviato e parliamo dell'avvocato Bigiarini e di Sergio Staderini. Ha confermato quindi praticamente tutti i capi di accusa per quanto riguarda la richiesta del PM, c'è qualche piccolo cambiamento ad esempio per Ghinelli e Merelli cade l'abuso di ufficio per quanto riguarda il loro ruolo all'interno dell'assemblea di Coingas. Accade perché le novità all'interno dell'abuso di ufficio che sono da poco state inserite nell'ordinamento non ne prevedono più il configurarsi, mentre invece rimangono per il sindaco l'abuso di ufficio sulla nomina di Francesco Macri alla presidenza di Estra e sempre il PM Rossi ha richiesto il rinvio a giudizio per il sindaco per il favoreggiamento in due casi, uno relativo alla vicenda multiservizi e l'altro relativo alle consulenze di Coingas. Quindi insomma il quadro si è andato a conformare secondo le aspettative, nel resto della giornata parleranno gli avvocati e parleranno anche le parti civili.